Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda in uscita a Firenze-Sud, provenendo da Bologna, per traffico intenso. Sulla Firenze-Mare, rallentamenti e code per traffico verso Firenze, tra Prato-Ovest e il BV11-1 e tra Sesto-Fiorentino e Firenze-Peretola. Arriviamo in Fipili per traffico, code a tratti tra la Strassigna e Firenze-Scandici verso Firenze. In carreggiato opposta, traffico rallentato tra l'allacciamento SGC Fipili e lo svincolo per Livorno-Porto. Possibili rallentamenti all'altezza di Montapoli-Valdarno, nei due sensi di marcia, per perdita di carico. A Firenze, traffico molto sostenuto sulla direttrice via Bronzino-Pisana, piazza Taddeo-Gaddi, porta al Prato-Fortezza. Sul raccordo Siana-Firenze, rallentamenti tra Tavarnuzze, Falciani e San Casciano. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!